Nei terribili anni di piombo il terrorismo di matrice politica lasciò dietro di sé una scia di morti e di feriti e di immenso dolore per le famiglie delle vittime. Tra il 1969 e il 2003 in Italia il terrorismo causò 360 morti, 156 per stragi, oltre 200 per attentati individuali e migliaia di feriti invalidati. Trent'anni fa a Torino nasceva l'Associazione Italiana Vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato. La ospitava la provincia di Torino nella sua sede di Palazzo Cisterna. La presiedeva il giornalista ed ex consigliere provinciale Maurizio Puddu che fu ferito dalle Brigate Rosse mentre rientrava a casa da una riunione politica la sera del 13 luglio 1977. Oggi che il pericolo terroristico non è più interno ma viene dal fondamentalismo islamico. Il trentennale dell'Associazione Vittime del Terrorismo si celebra sabato 7 novembre a Palazzo Civico in una giornata della memoria imperniata sul passato ma anche sul presente. La nostra associazione Iviter ne ha fatto proprio un culto della memoria quindi c'è una tradizione specifica che vuole ricordare quel periodo e quegli anni anche per trasferirla poi nell'ambito delle scuole che è uno dei nostri obiettivi più importanti ma al di là di questo noi non ci siamo fermati allo ieri, siamo anche a oggi quindi abbiamo la necessità anche di prenderci cura e carico delle vittime del terrorismo di oggi. Mi riferisco in particolare alle vittime del bardo ma anche le vittime dei teatri di guerra, i nostri soldati che si trovano in situazioni di attentati terroristici a tutti gli effetti e che quindi ricorrono a noi e noi ci prendiamo cura di loro. Nell'ambito del convegno del 7 novembre che è previsto proprio presso il comune, ripeto il 7 novembre, uno degli eventi più importanti sarà proprio il disturbo post-traumatico da stress e le vittime del terrorismo. Parteciperanno delle specialisti di altissimo livello che conoscono perfettamente le problematiche di questo disturbo, di questa patologia e anche a questo punto interverranno sulle possibili cure.